Tempo discreto, cerca di affrettarsi al tiro, non è una buona regola di solito, ma Draccio fa la classe sufficiente per... Va via Draccio, probabilmente molto vicino al primo, sicuramente, probabilmente miglior tempo. Va via di gran passo ed è primo in effetti per solo mezzo secondo. Vladimir Draccio. Anzi è Viktor Maegurov, no no no, questo non può essere Maegurov. Questi è Draccio e probabilmente la grafica voleva solo segnalarci, ecco infatti quella giusta, che Maegurov è molto vicino all'arrivo. Dunque Draccio ha sbagliato un tiro, un giro da recuperare, ma probabilmente finirà per avere il miglior tempo, fino a questo momento, migliore di quello di Gross e di quello di Bjorn Dahlen. E infatti è così, mantiene un bel vantaggio, 24 secondi Draccio. Uno di questi è proprio Vladimir Draccio che dovrebbe arrivare con il miglior tempo. Passo pattinato per gli ultimissimi metri di Vladimir Draccio che chiude in 23,21,8, addirittura 28 secondi meglio di Gross. Grazie. 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 Grazie.